Ciao amici e benvenuti da DJI Mr. Quinti. Quando Inatec ci ha inviato questi due prodotti è stata ben chiara sul concetto di utilizzo finale. Infatti sono due speaker, uno votato alla qualità musicale e uno alla resistenza in portabilità e noi ovviamente l'abbiamo presa alla parola. Oggi andremo proprio a recensire lo speaker che è votato alla resistenza in condizioni estreme. Prima di andare alla video review mi raccomando un like, iscrizione al canale, condividere questo video. Alla fine troverete un test estremo perché ho registrato il tutto prima e poi volevo proprio distruggerlo, vedere proprio la resistenza totale di questo speaker e allora ho fatto un piccolo test, un test veramente arduo che va al di fuori anche dell'utilizzo finale e i risultati li vedremo proprio nella video review alla fine. Iniziamo dalla costruzione. All'interno troviamo una sacchettina per riporre lo speaker, due cavi, uno USB, micro USB per ricaricare la batteria, un cavo pin jack, manuale di istruzione e anche un moschettone in metallo per la trasportabilità. Parliamo adesso di aspetto estetico, non brilla proprio sotto questo lato perché diciamo che il design è molto anonimo, più che è votato all'estetica e votato alla portabilità, alla resistenza, infatti è completamente in plastica, una plastica dura e le griglie della protezione dei driver sono in metallo. Le dimensioni sono molto contenute, parliamo di 13,5 cm di lunghezza per 4 cm di spessore per 7 cm di altezza. Per quanto riguarda il peso non è particolarmente pesante, è anche abbastanza leggero e trasportabile. Parlando invece dei tasti di funzioni, sono alloggiati tutti sulla parte superiore, c'è il tasto dedicato per accendere e spegnere oppure fare il primo pairing del Bluetooth, è un LED di stato che ha diverse colorazioni in base all'operazione che andiamo a fare, i tasti più e meno per alzare e abbassare il volume in prima funzione, io gradisco sempre questa soluzione, una pressione più lunga di andare avanti e indietro sui nostri MP3. Il tasto centrale che ci permette di mettere in play e in pausa e di rispondere alle chiamate perché questo dispositivo integra anche un microfono non dall'altissima qualità, diciamo che si riesce a terminare una conversazione soprattutto se lo teniamo molto vicino alla nostra bocca. A un lato c'è lo sportellino per l'impermeabilità che nasconde due ingressi, l'ingresso micro usb e l'ingresso pin jack proprio per collegarlo via filo. Questo dispositivo è IPX7 che quindi oltre ad essere protetto da polvere e schizzi d'acqua permette anche un'immersione a massimo un metro per circa mezz'ora, quindi ha qualcosa in più dei soliti speaker testati su per quanto riguarda l'impermeabilità. Sulla parte inferiore infine ci sono i piadini di appoggio leggermente gommati e ci permettono anche di avere un ingresso per cavalletto. Torno un attimo sui tasti che hanno una copertura di plastica morbida in silicone che permette anche di schiacciarli con una certa facilità. Il click però non è sempre preciso, vabbè questi sono dettagli, calcolando per il prezzo ci può stare. Parliamo adesso di driver integrati. Non è chiaro capire se lo speaker integra un unico driver da 5 watt, vicino dovrebbe esserci, usiamo sempre il condizionale perché tecnicamente non c'è quasi scritto nulla, dovrebbe esserci un piccolo woofer dedicato alla parte dei bassi passivo. Passiamo adesso alla parte del bluetooth, il bluetooth è di tipo 4.0. L'aggancio è molto veloce, la portata invece, forse questo è dovuto proprio da materiali particolarmente spessi, non è molto ampia. Diciamo che in campo aperto ha raggiunto a stento contro i 10 metri dichiarati dalla Inetec i 7 metri. In condizioni invece con ostacoli nel mezzo mi sono avvicinato a 5-6 metri. Per quanto riguarda invece la resistenza, torniamo proprio su questo discorso, punto fondamentale, Inetec mi aveva chiaramente detto che questo speaker più che sulla qualità sonora si concentrava proprio sulla resistenza. L'ho testato in ogni condizione, l'ho trattato malissimo, senza nessuna cura, porta i segni di tutti i miei test, l'ho preso a pallonate, l'ho praticamente schiacciato con della legna, l'ho fatto cadere da varie altezze, addirittura sono andato oltre i 10 metri di altezza e l'ho buttato praticamente di sotto. A parte qualche piccolo danno di usura sullo speaker, lo speaker non ha mai mostrato scedimenti e oltretutto ha continuato a funzionare. Adesso però vi faccio sentire un piccolo ascolto musicale fatto all'aperto per farvi rendere conto della potenza e poi torniamo per le conclusioni e non vi dimenticate il video alla fine. Grazie a tutti. Calcolando che l'ascolto musicale e il video è stato registrato quando avevo fatto già effettuato i miei test, i miei crash test, lo speaker da prima dopo non ha variato totalmente la qualità musicale, nonostante abbia presentato delle ammaccature importanti, insomma abbia un po' modificato la sua forma, il suono è rimasto invariato. Volume molto alto, questo è un punto positivo, la presenza dei bassi invece è gradevole al 60-70%, insomma c'è una buona presenza dei bassi purtroppo gli alti sono appena percettibili, anche ascoltando basi musicali particolarmente ricche di questa frequenza i medi sovrastano sempre queste frequenze, diciamo che il bilanciamento non è di certo il suo punto di forza. Per quanto riguarda invece proprio il volume è comodo per il viva voce perché veramente il volume è elevato sia per riproduzione musicale sia per quando riguarda una chiamata vocale. Per il credito residuo e il bonus della tua linea, prendi 1. Per parlare con l'operatore, prendi 2. Collegandolo via pinjack la qualità è stata superiore, devo dire che questa volta di solito gli ultimi Bluetooth si differenziano poco come qualità sonora, invece qui la qualità con il collegamento via cavo è più percettibile. La batteria interna integrata dal 2000 mAh l'ho sempre ricaricata con un caricabatterie dei miei telefonini, visto l'amperaggio. La durata invece è stata abbastanza buona, molto vicina a quanto dichiarato dalla Inatec. Infatti la Inatec in generale dà 18 ore di utilizzo, ma utilizzandolo al 100% del volume dichiara 8 ore di autonomia. Io che ovviamente lo ascolto continuamente ai massimi del volume ho raggiunto le 7 ore, quasi toccando, soprattutto al terzo ciclo di carica, le 8 ore dichiarate da Inatec al massimo del volume. Quindi complimenti perché in questo caso quando dichiarato si avvicina molto al mio utilizzo. Parliamo infine del prezzo, 29,90€. Diciamo che c'è molta scelta su questo target di prezzo. C'è una scelta però dovuta alle varie forme, estetiche, qualità sonore, ma difficilmente possiamo trovare un dispositivo che nasce per la resistenza e la portabilità. Perché? Perché l'ho trovato veramente indistruttibile, più che la qualità sonora e sotto questo aspetto i 29€ non mi faranno ribiangere nemmeno un centesimo. Intanto vi ringrazio di avermi seguito, spero di esservi stato utile, vi invito a lasciare come sempre un like, a condividere questo video, a iscrivervi al canale e potete farlo tramite l'icona che uscirà tra poco qui sopra, attivata la campanella per avere sempre nuovi video, oppure andate a vedere un altro video di vostro interesse cliccando sul riquadro in basso. Adesso però vi lascio come promesso all'ultimo spezzone video dove abbiamo usato veramente tanto con questo speaker DJ Mister, quindi come sempre per ora vi da appuntamento alla prossima video recensione. Ciao! 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 Ciao!